ciao a tutti ragazzi la tfg on the world e colca con l'account di ringan guarda ringan guarda ti ricordi l'ultimo video abbiamo sbloccato questa non l'avevo fatto vedere ancora la morte ha paura di lui 500 ha solo 81 punti salute però ha 500 danni è più a danni a zona in mischia per farti capire il boia ha solo 146 d'attacco apri 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 i baule ovviamente se me che sblocchiamo roba nuova qui questa carta rara secco ma no ora posso potenziare bello perfetto e denaro si si ce l'ho ma non puoi potenziare la morte no ho una tra questa e questa nuova carta sbloccato frecce carta comune hai carta comune vabbè vabbè abbiamo troppo un altro di quelli che posso potenziare perfetto due jam e altre frecce ancora golem va bene mi piacerebbe potenziare visto che lo uso spesso veniamo sul deck un attimo e potenziamo questi scemi ma va benissimo che stavano delle carte che adesso mi va benissimo e anche questi posso potenziare a zona cazzo 400 si no no non li potenza ragazzi perché costano troppo ma queste cosa sarebbe cioè le frecce fondando una zona non le voglio non ne voglio le frecce non ne usano anche su clash royale figuriamoci qua è proprio allora dove la verità che la morte lo porta una volta sola quindi non so bene ancora come si usa male faccia perché non so che fa tanto adesso prende più a più e desideri ma veramente quello di sempre prendersi e le eserci e il cazzo ne so io puntiamo di l'alba barbaro barbari ma che parola da solo mica lavoro per capo perché ha fatto questo ok boh mettiamo cosa ha fatto la mettiamo il golem da sopra anche che c'è il nano e mannano guarda che non è tanto forte ma perché mi butta bombe a caso il voto della bomba sui ma perché sul castello ma l'ha buttato in che senso non ti preoccupare così non posso fare flawless vittori però attento è il diavolo è il diavolo è il diavolo è il diavolo lam morto il diavolo adesso devo mettere la morte ma visto che c'è il golem che me lo difende metto la morte vediamo poco quello con la fanta vita e vediamo un po cosa fa dai ti prego uccidila fam bestia me l'ha sciottata potentissimo metto un altro che smette un altro di questi che spalla scuri e g furietto giusto furia già ho frizzato se ciò furia giato e cosa fa guarda un palladino ma quanto cazzo ma quanto forte è sta carta carta nel solipoli scusa ha messo un palladino della giustizia giustizia visto che ha due vittorie posso ancora fare due vittorie due vittorie per fare il baule della vittoria vittori baule non posso dire flawless vittori ti prego smettila non posso dire flawless vittori perché perché qua troviamo avuto la bomba alex ciao alex e alex e tanto questo livello 3 contro livello 4 ma devo vincere allora ti prego dammi un golem vedi però la morte non la posso giocare da sola perché muore subito giustamente ma guarda guarda perché gli scheletrini sembrano stupiti guarda guarda quanto danno fanno a livello 5 ma è giusto che uccidi quelli potentissimi fomento momento momento paramento l'uso senza capire un anno ma sì ma c'è solo un anno alla fine guarda 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 quanto rompe le palle quel quel coso c'è uno scheletrino è uno solo hanno tanta vita rispetto a flash a cash royale sono molto più utili e la morte la morte la morte era messo la la morte non lo metto di qua sotto così lo metto di qua sotto guarda di la cane potentissimo non fa schifo è detto che è fortissimo ok mettiamo il boia qua sopra da solo guarda guarda il barbaro guarda la morte guarda la morte guarda 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 ancora un colpo vinto che cazzo di carta è ma stanno bene ma è fortissima c'è un gay che ha poca vita probabilmente con un incantesimo tipo il fuoco o la bomba luci però cazzo ti accedono forse anche le frecce se non so perché a pochi punti vita 81 punti vita non sono cassino gerusalemme con la battaglia del brasile da fa cazzo è parola un figlio popolo attento a cazzo è il problema è questo che io adesso cosa faccio metti il messo la morte la morte muore subito no metti metti cosa il diavolo è il diavolo però non potevo metterlo ok da indipi che muore quello almeno da con un colpo dai muori e niente metto il golem che almeno mi dà tempo per caricare l'esil a bastardo cazzo 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 mette il dia il diavolo il diavolo è la morte muore subito con l'ambri di velocità cosa è bastardo prevedo un lowless vittorio no no per lui però aspetta aspetta non è detta l'ultima parola dai moschettiere dai simus che dai diavolo diavolo veste frano vero lo spara spara ok questi tre ma cazzo no arceri archers vai ok perfetto mettiamo la morte via domenica dove devo usarla si può me l'ha ucciso per me è quella ma cosa che ha messo è una sorta di scudo per andare avanti di buttarlo giù ma pensa a te ma non è giusto ma cos'è sta barba bastardata la metto qua va a fanculo al centro di metterla io ho sbagliato sbagliato ho sbagliato permetti che lui è stupido non mi mi attacca si non me la norma la thought ju che ne so io ec秒 abbiamo una скоро aspetta 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 a di de bene a avete fatto da una zona è morta la morte e la morte è morta è sbagliato ho sbagliato 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 e sbagliato male anche niente ragazzo ho perso però vedete min forty vi dato fastidio perché sono brevi�� con delle carte che costavano troppo e non potevo metterle quindi non è abbattuto ragazzi cosa faccio come della furia la furia o la furia fa il diavolo perso ragazzi ci stanno andando a perdere ho capito però hai perso ma che fosse un atto se tu mettevi la morte non è che posso vincere lì sopra insomma mettevi la morte sopra adesso mettevi il diavo e il diablo non pro lei aspetta adesso mette il diablo si parla il diablo mi uccide quello va bene che ti uccida quello lei e mettiamo il golem adesso perché recupero non lo so furieggio 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 uscite quel caso c'è dentro c'è dentro c'è dentro c'è dentro c'è dentro da mettiamo che ostendiamo a mettere truppe dal fatto perché sennò qua si è fatto avrà vinto pensiamo sicuro ha buttato le frecce a caso così magari si sente sicuro magari comunque te lo ammazza andiamo di qua così ok il centro ha perso anche se metteva al centro moriva niente ragazzi ho perso purtroppo non ho modo di mettere tipo la morte dove cazzo è la morte l'ho messo una volta vabbè ragazzi ci riprovo ci riprovo ci sta a perdere ci sta una volta una volta se sei ragione posso vincere sempre dai no no ma veramente perché ti do ragione boh vabbè sti cazzo di dire ha dato ragione a matteo ciao ma è medesimo è medesimo ma è tra me medesimo io contro io 517 trofei tipo adesso metto questo subito perché perché così mi avanzano le truppe vero la linea la lane vai lane attacca ok adesso mettiamo no no fermi ma no l'ho ucciso vedi che basta un colpo non basta aspettare un attimo caricare aspetta aspetta ma perché vedi perché metti il diablo metto lui golem contro golem e adesso mette il diablo aspetta adesso 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 secondo me è meglio mettere la morte la morte la morte è sì così uscito c'erano le riuscire quello lì è già perché mettiamo dai uzzam ma parola come il diavolo e smette pure per il diavolo aia metti un altro golem no ragione era meglio mettere al mento aspetta 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 mettiamo questo questo tanto è proprio scontore ah ho messo quello e mettiamo questi tre i tre che sembrano sembrano scarsi non lo sono affatto perché è meno solo un colpo ma fa da una zona voglio la paglia del diavolo del diavolo perfetto intanto sta colpendo la torre il diavolo al centro è esatto al centro così mi muore quel boia magari perfetto e qua mettiamo un altro golem o con la propria questo è fortissimo metti un diavolo è fortissimo postura che sono diavolo via perfetto e questo che la mettona in alto che sta colpendo tutto letto per un ciclo ha già messo la morte ho vinto florist vittorio la ulex vittori a guarda mi sta mi ha urlato e vi aspetta quattro ok abbiamo il volo della forziera della vittoria vittoria allora abbiamo abbiamo cosa dire vittorioso fulmine cartarara sblocata attenzione qua abbiamo scheletrini o meno di potenzione sono forti e 15 frecce ben 200 monete ragazzi attenzione mica bagigi mica bagigi qua apriamo cos'è la fulmine intanto cosa fa avevamo la cielo da provare anche però non mi ispira tanto sinceramente aspetta come faccio se voglio delle informazioni ok colpisce il nemico con l'hp più elevato nell'area obiettivo e fa ben 900 e ho capito ma 55 no vabbè su un attimo torniamo questi cosa faccio la pazzia ragazzi potenziamo a livello 6 di scheletrini non sono in canta vita la squadra informazioni hanno c'entrata un attacco non male non male porto via la gelo la proviamo formazione da prova al posto della furia proviamo ragazzi prima al posto della furia la gelo e vediamo premere se mi attaccano e lì gelo mi do il tempo con le di carcare le lisi attacchi da un'altra parte che attaccano da un'altra parte tu dici però io provo cazzo allora mettiamo un po di aspettare 4 e metto questo per prima come prima carta quale metto questo sicuro no metto questi metto questi perché c'è vedi che fa come me metto un barbaro per far avanzare le lei non ho messo due però e morano tutti e due non più facciamo così la morte ma muore subito hai visto anche tu la gelo avevamo tutto tanto ci metto un bel po e adesso metto la morte ma morta è vero questo il problema che muore il diavolo no troppo poco troppo poco riservi e quando parti così male dopo è difficile recuperare ma è quasi impossibile proprio e mettiamo il diavolo proviamoci ragazzi sono morti gli arcieri niente ne ho perso guarda la scala di che ci sono perché quando se parti male è finito sei fottuto se parti male sei fottuto ragazzi ma proprio alla grande anche purtroppo non avevo la possibilità di mettere nessuna truppa che uccidesse sto stronzo la morte è morta subito la morte è morta la morte è morta immediato riproviamo ragazzi rinnegan caro caro rinnegan caro rinnegan ti scrivo un tedesco sentire caro sa cosa vuol dire caro in tedesco mettiamo così e adesso facciamo anche noi stessa mossa mi va bene a partire col barbaro il più veloce al più veloce avanza subito e non è proprio così subito da fermare ecco il mio livello 4 quindi vinco io bisogna cosa trovo dopo mettiamo il golem e gli arcieri dietro aspetta 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 la devo fermare tutto con bastano gli scrittori cosa del coso sono questi tanti tanti ad esser vicino anche il nano perfetto quando lo so sicuri così va bene così adesso brucialo no muore che ho lì adesso tanto spara troppo da lontana quello di spartamento non abbiamo lo diamo 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 lo adesso vediamo questo ottimo vedi essere lui e venite nella merda come prima vedi che nella merda perché è partito male anche lui se parti male poi difficilissimo recuperare c'è 8 6 quasi fattuto se aspetta come sboglia è molto voglia sta giocando anche bene la verità mettiamo la morte e scheletrini contro scheletrini tante messo livello sai due quattro quindi non vincitano male anche che ammettiamo il barbara al città il simone per scheletrini il barbara va al centro dice la morte con un colpo che ho vinto la morte col boia perché fa da una forma il boia perfetto ragazzi mi è piaciuta le scelettate mi piace la porta è potentissima di scrivere il nostro canale a dirsi cosa volete vedere cosa volete mettere l'alberato nella prima del prossimo video diteci sono un'arancia di capelli arancioni ciao a tutti e al prossimo video